una vasta gamma di soluzioni che hanno proprio nei temi sottoriali il loro punto di forza e che permettono anche di andare a diversificare il proprio portafoglio sto parlando di 18 memory cash collect che sono composti da basket di tre titoli quindi certamente sono più rischiosi di strumenti sul single stock ma comunque come basket è un numero abbastanza contenuto rendimenti che l'inflazione la battono perché si va da 10,2 per cento su base annua lordo ovviamente ma fino al 24 peraltro strumenti che in alcuni casi hanno come sottostanti la tecnologia americana che lo sappiamo tipicamente non paga dividendi e quindi già questo è un buono appunto di forza con società apparentemente italiane per nome magari per quotazioni ma non realmente italiane che permettono anche qui di avere un'ottimizzazione fiscale legato al scontro tra dividendo e premio al netto che poi lo sappiamo tutti i certificati permettono di recuperare le minusvalenze con tutti i premi che pagano ma andiamo a vedere la gamma sì abbiamo una gamma di solito riccardo tu lo sai bene insomma quando facciamo una nuova emissione non andiamo mai su numero troppo elevato di prodotti di solito ci limitiamo a 7 8 10 prodotti questa volta abbiamo voluto un po' rimpolpare quella che è la gamma di cash collect classici perché poi parliamo di questo quindi non ci sono opzioni airbag non c'è nulla di particolare sono tutti dei semplicissimi cash collect con barriera 60 tranne 1 al 55 e soia bonus quindi per il pagamento del premio allo stesso livello quindi emissione classica abbiamo voluto però coprire un po tutti i settori quindi 18 18 prodotti quindi appunto un emissione molto molto ampia abbiamo i classici settori che mettiamo di solito quelli che sono un po più apprezzati dagli investitori certificati quindi assicurativo bancario europeo bancario americano automotive lusso ma anche settori magari che non si vedono tutti i giorni ecco abbiamo non so un basket con caprica pezzalando quindi magari meno conosciuti come sottostanti oppure edilizia risorse di base quindi abbiamo cercato proprio di spaziare il più possibile di coprire il più possibile appunto dei diversi diversi settori come detto bene tu hai fatto bene a specificarlo tre sottostanti ovvio più rischioso di un basket a due o di un singolo sottostante una cosa che abbiamo notato rispetto a magari due tre anni fa la preferenza degli investitori era più spostata verso basket su quattro titoli nel 2022 anche quest'anno notiamo che invece sono abbastanza apprezzati i tre sottostanti quindi una struttura a livello proprio di componenti del basket che sta piacendo all'investitore quindi tre ci sembrava il giusto compromesso e come stai facendo vedere dalla tabella i rendimenti comunque sono i rendimenti molto interessanti perché il più basso è un 10 e 20 su Enel, RWE e Veolia il più alto addirittura un 24% ovviamente poi dipende dal vostro preferito di rischio e dai sottostanti se vi piacciono però va detto una cosa rialzi molto forti degli indici fino adesso magari appunto ci sarà una fase di lateralizzazione o lievi ribassi fino ad un meno 40% sia comunque protetti dalla barriera e comunque si incassano i premi sono flussi cedolari non indifferenti ecco stai facendo vedere anche su assicurativo che è un settore tipicamente poco volatile comunque un per cento al mese quindi un euro al mese per ogni certificato in portafoglio e sicuramente aiuta anche magari ecco a iniziare a programmare poi un recupero minus valenze verso la fine dell'anno abbiamo già messo dei maxi cash collect come sai però qualcuno può iniziare magari a programmarlo già da adesso cash collect che comunque pagano cedole cedole interessanti allora stavo guardando diversi settori e vi è per esempio questo strumento su biper banca intesa san paolo nei credit che è molto interessante come sottostanti ma non so se lo andrei a comprare allora noto un rendimento 1440 che è assolutamente interessante anche e nonostante quelli che sono i dividendi sempre molto corposi che è un'intesa san paolo da sono dividendi da traverete baciarsi le mani ma se uno va a vedere il quadro tecnico di biper banca e di unicredit forse nel trade off fra quello che è il rendimento il potenziale il potenziale capital gain a un minus prima guardava anche sul grafico settimanale biper banca davvero a sé una strada spinata lo stesso può dirsi per unicredit però rimanendo in cui all'interno di questi settori vi è proprio uno su cui mi è caduto l'occhio e non parla tecnologia americana che anche non è banale che è questo fatto su caring vi è anche un refuso l'errore lo corraggiamo perché perché da l'11 40 per cento di rendimento annuo lordo 0,95 euro al mese per ogni certificato posseduto barriera al 60 per cento soprattutto ecco è uno strumento che ha come sottostante un settore che è storicamente forte e resiliente quindi abbiamo sentito anche di possibili correzioni cali della congiuntura eccetera questo è un evergreen sì è sicuramente un settore anche questo molto apprezzato non ci sono tanti prodotti quanti su altri settori però sicuramente un settore apprezzato dagli investitori in certificati hai detto bene hai detto bene tu secondo me una cosa che va fatta sempre prima di comprare un cash collect guardare ovviamente sottostanti e aprire almeno un secondo il grafico guardare un po' quella che è la situazione anche tecnica dei titoli perché se sono titoli come detto tu che magari davanti a loro hanno veramente strada per salire magari ha meno senso comprare un cash collect ma titoli che sono saliti tanto comunque sono in una fase laterale sia in dubbio magari non voglio entrare sul titolo perché ho paura che possa scendere magari appena entro mi ritrovo subito a due settimane un meno 5 quindi sono un po' arrestio a comprare direttamente il titolo magari appunto il cash collect ovviamente scende di prezzo anche il cash collect se scendono i titoli però ho comunque un buffer di protezione molto ampio e so che posso tollerare un meno 40 e un meno 40 insomma poi per carità tutto può succedere ma un meno 40 su tre titoli sicuramente ho un po' più di tranquillità e ho un flusso periodico nel tempo tra l'altro un'altra cosa Riccardo che non ho specificato prima come sempre c'è la possibilità di rimborso anticipato che è una cosa che noi mettiamo sempre abbiamo cercato di lasciare decrescente bravo con step down quindi parte da gennaio 2024 e scende del 5 per cento a semestre quindi ogni sei mesi poi si abbassa del 5 per cento fino arrivare all'80 per cento noi la mettiamo sempre questa questa opzione cerchiamo sempre poi di studiare quando metterla a partire da quando abbiamo deciso dal sesto mese quindi da gennaio 2024 per cercare di lasciare un po' di spazio per appunto incassare i premi altrimenti magari si compra e dopo due mesi va al rimborso magari non è l'ideale è una cosa che noi mettiamo sempre che comunque anche a livello tecnico aiuta il certificato a tenere bene il prezzo nel senso se ho tre sottostanti due ampiamente sopra il livello di rimborso anticipato e uno che è a poca distanza il certificato legge la possibilità di rimborso legge quindi la possibilità di rimborso a 100 euro quindi il prezzo può essere ecco sostenuto da questa questa opzione quindi anche qualcosa che fa bene diciamo a livello di proprio di performance del prodotto all'interno del portafoglio quindi abbiamo detto appunto step down e arriva fino all'ottanta per cento la scadenza è comunque poi sempre tre anni quindi luglio luglio 2026 grazie a tutti grazie a tutti